La situazione attorno alle province d'Italia, in maniera particolare quelle calabresi, resta incandescente. Lo è soprattutto a Vibo Valencia, dove i dipendenti non percepiscono lo stipendio ormai dall'aprile scorso. L'assemblea urgente, convocata per lunedì, ha gettato un po' di acqua su un fuoco che rischiava di esplodere alla vigilia di Ferragosto, ma le fiamme restano altissime. Noi abbiamo con l'organizzazione sindacale proclamato lo stato d'agitazione, per cui adesso aspettiamo un incontro con il prefetto, come rappresentante del governo, in maniera da vedere se può esserci una soluzione immediata, almeno per quanto riguarda una parte di questi stipendi, ma noi a questo punto li vogliamo tutti gli stipendi. Una situazione insostenibile per decine di famiglie. Ognuno ha i sospesi, perché sono un quelino dell'Ater e sono amoroso, amoroso in tutti i settori. Mi ha chiamato la Sandant, era una finanziaria, perché ho una macchina da pagare. A giorni mi richiama. In questo momento, 5 minuti fa, mi ha chiamato la Carme perché devo rientrare. Con 5 stipendi arretrati io non so più dove andare. E se Vibbo piange, Crotone non ride, anche se per i dipendenti dell'ente intermedio pitagorico, dopo un inverno nerissimo, sembra essere tornato il sereno. La Crotone non è che si vive meglio, si vive sicuramente un po' meglio, nel senso che di ieri la notizia è che ci siamo pagati, seppur in ritardo il mese di luglio, anche se l'anno scorso è capitato che sono passato, come ad esempio a Vibbo, 4 mesi. Se io penso ai colleghi di Vibbo, ma credo che ormai il problema riguarda un po' tutte le province d'Italia, in cui padre e madre di famiglie che non hanno nessuna colpa, se non quella di aver vinto un concorso personale pubblico, di dover subire lo sconto di 5 mesi senza stipendi e addirittura si prospetti l'ipotesi di arrivare a dicembre, mi credo che sia una cosa un poco degna per un paese che si definisce appunto civile. Alessio Bonpasso per Racinus24